è dura vita per un vitello vecchio ehi un vitellino la gara del vitello supera il vitello Matteo Matteo in testa sul vitello e ora insegue il gregge la fatica di un vitello fissate i vostri momenti felici ragazzi ufficialmente adesso siamo in mezzo alla giungla e Fabio lo dimostra siamo con i ragazzi livornesi con Daniel si sta facendo esplorare un po' questo meraviglioso mondo nascosto e oramai deflorato dall'uomo come equipaggiamento ci siamo forniti ognuno con un macete oh che peso prima è pesissimo questo è una rarissima pianta di fungo allucinato adesso mangiamo i funghi lolli tomorrow spalato occio fate attenti alle mille insidie celate all'interno di essa ma ragazzi adesso non poteranno di esconderse comunque sia occhio ai Charlie ragazzi occhio ai Charlie sai cosa potrei dire anche sul seno occio 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 ci arriva Predator c'è un'abominevole ragno c'è un abominevole ragno dove? un'altra abominevole ragno peso ciao a tutti penso che la mia faccia stanca e affaticata indichi un momento di grande fatica passata e questi ragazzi lo confermano siamo in mezzo alla giungla di Cahuita e il peggio deve ancora venire e il peggio deve ancora venire dice Fede ciao mamma ciao mamma ciao a tutti buona parte Italia 1 Pone atención, ponlo in questo arvolo. Mira che tipo di arvolo, solo espinas. Espinas? Si, no, non puoi toccare. Il arvolo. Il grosso. Il grosso. Con questo si fanno i botti. Questo è il javillo. Si, no, si. La salita. Occio. Siamo in condizioni allucinanti. Facciamo come possiamo. Ce la faremo? Ce la faranno i nostri eroi? Ce la faranno o non ce la faranno? Chi lo saprà? Occio. 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 Noo, come on. Come on. vediamo che pericolosamente si avvicina alla giungla ragazzi vi salverò io con ardore in questo momento i reggae si stanno prodigando nel cercare di tirare giù il frutto della pipa bravi bravi vedo alcuni di voi un po' in panna ma penso sia regolare c'è Daniele laggiù in fondo che sta piantando una piantina ragazzi la giungla è fatale fatale e voi non potete immaginare quante robe si possano trovare davanti occio c'è un serpente là no scherzo no ma ci sono dei gran colori proprio le cose strane no sono abbastanza soddisfatto non mi svegliai e gridai per la forza di grey school tatatata tatata tatatata tatatata tb andrei a dare nemico Daniele il vado di l'angolo di questo ho comprato il tagliare di nuovo si che bomba che bomba Daniele che bomba che bomba caldo ragazzi che caldo che caldo yeah vedi passa la sigaretta per favore fa finta di velo disbottare fai così poni attenzione che c'è la pigna la pigna questa è pigna e questa è pigna allora faccio un po' più asciutto questa è pigna questa è pigna quale Daniele le stai riprendendo è vecchio guarda la schiena corte questa è pigna e questa pigna che si che si ha i tu piedi cazzi non c'è ancora fatta questa qua non è mica a posto questa qua Fede secondo te è a posto? no ci stiamo adentrando sempre di più nella giungla ogni cosa sembra particolarmente tesa abbiamo visto ragni allucinanti no mi ha perso Daniele no Daniele è la nostra guida però se perdiamo Daniele si ma venite conto che peso ragazzi venite conto dove siamo un uovo peso cosa sta succedendo? c'è un problema ragazzi che si scivolati che peso è scivolosissimo passo il bastone dopo ragazzi aspettateci ragazzi siamo qui nella cascata stiamo cosa stiamo facendo? stiamo mangiando o almeno tutti stanno mangiando io li guardo mangiare e li prendo siamo nella cascata del nostro amico Daniele stiamo in mezzo alla giungla sono in mezzo alla giungla riuscirò a uscirne in vivo è la domanda che mi sta affliggendo sempre di più peso che schifo occio 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 tra nome vero siamo sempre in mezzo agli animali anche se mangiamo oh c'è il polletto no vai via vai via no no non ce n'hai a